Cristo risorto buongiorno cari fratelli e sorelle siamo al martedì della settimana santa ed è un giorno speciale anche oggi per stare alla presenza di Dio ma soprattutto per donare a lui quello che siamo e quello che stiamo vivendo e come ci stiamo preparando per la Pasqua del Signore. Oggi vorrei in qualche modo riprendere ciò che ieri abbiamo ascoltato nel Vangelo, nel Vangelo di Giovanni quando si parlava di Maria, sorella di Lazzaro. Il gesto che ha fatto, questo versare l'unguento di olio profumato e prezioso sui piedi di Gesù e asciugarlo con i Suoi capelli. Lo voglio riprendere perché è davvero importante. Vivere la settimana santa significa preparare il nostro cuore, preparare il mio cuore alla venuta di Gesù, a una venuta nuova. Gesù è Dio e quando Dio viene nella nostra vita crea cose nuove, crea cose diverse, crea cose più belle. Quello che Maria ha fatto è stato un gesto di amore verso di Lui, un gesto di donazione a Lui. E allora oggi proprio vorrei prendere la prima lettura della liturgia. Il profeta Isaia al capitolo 49 dice Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Poi al versetto 3 mi ha detto mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ecco queste parole sono tratte dal secondo canto del servo del Signore, del profeta Isaia. È vero, si parlano di Gesù ma parlano anche di me, di te, come è importante sentirci amati da Dio, essere chiamati da Dio. E quando pensiamo che finché eravamo nel grembo di nostra madre, già lì Dio ci amava, già lì Dio ci chiamava. E sapere che siamo Suoi servi, amici Suoi, sopra i quali vuole manifestare la Sua gloria. Questa è un brano sul quale dobbiamo riflettere questa giornata. Quanto siamo preziosi agli occhi del Signore. Quanto tu sei prezioso agli occhi di Dio. È per questo che Gesù entra a Gerusalemme. E' per questo che Gesù sale sulla croce, per te, per me, perché ti ama, perché mi ama. Quale amico, quale amica, quale persona su questa terra troverai che ti ama così tanto come Gesù. E allora prendiamo il Salmo di oggi, il Salmo 71. E lo potete leggere, questo nelle vostre case, insieme, ci insegna a pregare. Ci insegna a fare quel gesto che Maria, sorella di Lazzaro, ha fatto verso Gesù. Questa donazione con tutto il cuore a Lui. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Primo versetto. Oggi è un giorno, caro amico, cara amica, per rifugiarci in Dio. Non sarai deluso. E c'è questo avverbio, mai, mai sarò deluso. Come sono le mie preghiere, come sono le tue preghiere. Ci rifugiamo in Dio, sì. Abbiamo fiducia. Li diciamo, Dio, non sarò mai deluso, perché spero e credo in te. E poi dice, per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Dio è un Dio difensore. Sì tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Abbiamo difficoltà in questo tempo a stare in piedi, ad essere gioiosi, a credere nel Signore, nella Sua parola, credere che il futuro andrà bene. Dio è la nostra roccia. Davvero, mia rupe e mia fortezza, Tu sei, Signore. Al versetto 5, così il Salmo ci fa pregare. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Fin dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Fratelli e sorelle, queste siano oggi le nostre parole. Quando parliamo con Dio, quando lo preghiamo, ma i fallo anche con le tue, liberamente. Sei tu, Signore, la mia speranza. Signore, ho fiducia in te che in questa Pasqua tu porti qualcosa di nuovo. Ho fiducia in te dalla mia giovinezza e voglio che Tu, Gesù, sia la mia salvezza, il mio liberatore, la mia roccia di rifugio. Per questo apriamo le nostre braccia, benediciamo il Signore dicendogli grazie, Gesù, perché mi ami. Grazie perché mi hai chiamato fin dal seno materno. Grazie perché ho posto in te la mia fiducia. mai sarò deluso, nemmeno in questo tempo di crisi, nemmeno in questo tempo di difficoltà, perché Tu sei con me. La Tua destra è il mio fianco. Non vacillerò. Grazie, Signore Gesù, perché Tu mi liberi. Tu sei il mio difensore. Amen. Carissimi, vi auguro una buona giornata. Che il Signore vi custodisca oggi e vi benedica. A presto, ciao. Da Strona, dalla vostra comunità, della coinonia. Ciao. Maranatha Sei la mia fortezza Il rifugio che mi salverà Io ti invoco Maranatha Vieni, Signore Abbiamo bisogno di te Vieni presto Maranatha Vieni, signore